La rabbia per il pareggio con la Juve Stabia non è stata ancora smaltita, ma il Catania ha il dovere di provarci, sin alla fine sperando che le Lecce non le vinca tutte. All'orizzonte c'è la gara con l'Akragas in programma, domenica alle 14.30, nelle solito 4-3-3 di Lucarelli non sono escluse. Novità nella formazione, Lodi che è diffidato potrebbe riposare per un turno. Porcino potrebbe prendere il posto di Marchese in difesa e di grazia quello di Manet in attacco. Scalpita pure Russotto che lentamente sta cercando la forma migliore. Curiale, ancora una volta, nonostante il mal di schiena che l'affligge, sarà il punto di riferimento in avanti. Difficile pensare che le fondi alle vie del mare possano impensierire le Lecce. Tuttavia i pugliesi, anche contro la regina, hanno concesso tanto e l'andamento del campionato di quest'anno induce a pensare a qualsiasi risultato. In casa Grigentina l'obiettivo è di fare bella figura al cospetto di una delle corazzate del campionato. Criaco dovrebbe dare spazio ai giovani e quindi ai vari Lomonaco, Ioyo e Danese. Si avvicina per il Trapani la gara al provinciale con l'Andria. Problemi di formazione per Calori, soprattutto in difesa, visti gli infortuni di Visconti, Drudi e Pajarulo. In attacco evacuo sarà supportato da Polidori. Il Siracusa, dopo il turno di riposo, è pronto a stupire nuovamente lontano dal De Simone. Il Catanzaro reduce dal pareggio con il Cosenza e squadra da non sottovalutare. Bianco dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Parisi, Catania e De Silvestro a supporto di Scardina. Unica punta, la Sicula Leonzio continua a sognare un piazzamento play-off. Il Cosenza all'Angelino nobile sarà un cliente difficile, ma la squadra di Diana avrà dalla sua parte la spinta del proprio pubblico. Nell'ambito delle 4-3-3 in difesa tornerà De Rossi che ha scontato la squalifica. Arcidiacono scalpita per giocare dall'inizio. In attacco l'unico sicuro del posto sembra l'Escano.